Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto sette contrabandieri e sequestrato in provincia di Latina quattro tonnellate e mezzo di sigarette. Sono stati i finanzieri del gruppo di Nola ad individuare in piena notte un tir con targa bulgara, sospetto in base ad indicatori di analisi di rischio elaborati per l'esecuzione di controlli economico criminali del territorio più mirati. Accertata telematicamente la provenienza del mezzo da un porto ellenico e una dichiarazione di trasporto anomala, la Guardia di Finanza ha prontamente organizzato un'operazione di inseguimento e controllo del mezzo fino a destinazione, che ha condotto le pattuglie delle Fiamme Gialle fino a un capannone a Savaudia, in provincia di Latina. All'atto di rompere all'interno dello stabile, i finanzieri sono riusciti a cogliere in fragranza di reato sette soggetti, autista e squadra scaricatori, mentre straevano dal carico di copertura oltre quattro tonnellate di bionde marca Chesterfield e Mark I, nascosta all'interno dei blocchi in lamira elettrosaldati. Tutti arrestati contrabandieri, un 28enne napoletano pluripregiudicato, un 51enne napoletano incensurato, un pregiudicato 53enne della provincia di Latina, un 36enne incensurato di Savaudia, un 45enne greco, un senegalese di 31 anni ed un ucraino di 32.